Belinkovic, Savic! È un gol che preme i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato, il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato. Baragna metri, pericolo, ecco il tiro! Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Eh, si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne agri in presa. Keita! La deviazione del difensore inganna il proprio mortiere. Grazie! 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 Grazie!